Cari amici, buonasera. Dai dintorni di Bologna lanciamo un'iniziativa Matrimonio e dintorni, sabato 15 novembre, ore 17, in piazza San Domenico 13. Il titolo dell'incontro è Matrimonio e dintorni, riflessioni sul doposinodo. Nel corso del mese di ottobre abbiamo assistito a distanza ai lavori del sinodo straordinario dei Vescovi e ci siamo resi conto, credo non solo io ma molti di voi, che è grande l'ignoranza circa la realtà del matrimonio e della famiglia. C'è grande confusione in giro per cui l'incontro mira innanzitutto a fare chiarezza sulla realtà del matrimonio, la realtà umana e sacramentale del matrimonio e poi esplorare quelli che sono i dintorni della realtà matrimoniale, che molti giudicano intriganti. E questi dintorni sono stati oggetto del dibattito sinodale. Ricordo solo alcuni di questi dintorni perché sono molteplici. Le convivenze, la realtà della separazione, quindi la patologia del matrimonio, la separazione, il divorzio, le persone che divorziano e si riaccompagnano, oppure che divorziano e si sposano civilmente, oppure le convivenze tra persone dello stesso sesso. Tutti questi sono alcuni dei dintorni della realtà del matrimonio. E noi insieme rifletteremo alla luce del dibattito sinodale su tutte queste esperienze. Quindi vi aspettiamo sabato 15 novembre ore 17 piazza San Domenico 13.